e il Don? Un attimo Don, non arrabbiarti con me che ti stavo per dimenticare Sì, va bene, siamo qui per questo No, ho capito Niente, 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 vai Don, vai Dunque, io vorrei stravolgere la religione e dire che il primo comandamento deve diventare per tutti dai c'è credenti amare il prossimo deve diventare il primo comandamento per tutti amare il prossimo Bravo Don, bellissimo Don Antonio bellissimo